L'ex ospedale militare di Catanzaro al centro di un accordo tra il Comune e l'Agenzia del Demanio per avviarne la valorizzazione, così facendo potrà tornare ad essere fruibile anche da parte dei cittadini. L'ex ospedale militare a Catanzaro verrà valorizzato con una ottimale destinazione d'uso che sarà definita di concerto con il Comune. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dal direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi e dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, finalizzato proprio al recupero della struttura di grande pregio storico e architettonico. È un bene di grande qualità storico-artistica, ha una capacità molto rilevante, è ancora in buono stato, dobbiamo insieme trovare risorse ai ministeri competenti per cercare di utilizzarlo al meglio. Con la firma dell'accordo l'ex ospedale militare ritornerà ad essere fruito dai cittadini mediante l'utilizzo di risorse pubbliche che permetteranno di riqualificare sia il Bosco dell'Osservanza sia la parte edificata che invece potrebbe ospitare uffici giudiziari o strutture universitarie. Nel momento in cui abbiamo vinto la causa per usi civici il rischio è che il Demanio faccia ricorso e impieghi cinque anni perché venga definito questo ricorso. Quindi l'accordo che abbiamo trovato oggi con il Demanio è in questi cinque mesi, perché abbiamo tempo cinque mesi, trovare una sistemazione per questi immobili e il relativo finanziamento. Quindi il Demanio si adopererà per trovare dei finanziamenti e capire cosa allocare. Potrebbe essere uffici giudiziari, potrebbe essere il TAR, la Corte dei Conti, ma potrebbe essere anche una facoltà universitaria però che decide di spendere 10 milioni per ristrutturare questo immobile. Per noi la cosa importante per garantire la collettività, per noi oggi la parte più interessante è quella di non far rimanere chiuso questi immobili.